Di tutto questo noi ne parleremo in modo approfondito durante la serata anche perché potremo conoscere quali sono i temi importanti dello Sporting Hour e perciò tutte le discipline alle quali voi potete attingere per fare attività fisica. Quando dico voi dico tutti quanti, perciò gli adulti, le donne, i uomini, i bambini soprattutto, con i bambini parleremo soprattutto di sport e comunque vedremo un attimo che cosa può offrire lo Sporting Hour per voi, per la vostra bellezza fisica e per la vostra salute. Iniziamo subito però anticipando una cosa importante.